un narcisista come contro manipolare un narcisista o un manipolatore la manipolazione è sicuramente un evento crudele da cui dobbiamo imparare a difenderci, che dobbiamo imparare a sconfiggere, che dobbiamo imparare a battere e capire intanto se qualcuno ci sta manipolando come possiamo capire se qualcuno ci sta manipolando? ma in prima istanza la cosa fondamentale è imparare ad ascoltare la nostra voce interiore perché ascoltare il nostro intuito, ascoltare la voce interiore imparare a mettere in dubbio la realtà che il manipolatore sta cercando di farti credere perché le persone manipolatrici cercano di farti credere qualche cosa che in realtà è un qualcosa di inesistente quindi impara sempre a mettere in dubbio le situazioni ad esempio lui ti dice lascerò mia moglie lui ti dice non ti tradirò mai e invece inizia a mettere in dubbio soprattutto le cose che ti dicono il problema è che bisogna imparare anche a mettere in dubbio le cose che ci dicono persone che ci coinvolgono perché è facile non farsi manipolare dal figlio del portiere di cui non ti frega una beata minchia ma è più difficile non farsi manipolare da una persona che invece in cui invece credi quindi realizzare che la persona che ami ad esempio potrebbe starti potrebbe essere manipolativa magari essere un narcisista non è un pensiero piacevole ma lo devi affrontare comunque devi valutare quindi la verità è che comunque chiunque potenzialmente potrebbe manipolarti quindi impara ad ascoltare la tua voce interiore come avviene la manipolazione e come difendersi dai manipolatori come difendersi dai narcisisti intanto diciamo questo che il nostro cervello è programmato diciamo per credere prevalentemente alle cose negative che vengono dette piuttosto che alle cose positive questo è un qualcosa da prendere in considerazione perché diciamo anche se tu vuoi imparare a difenderti o a dire delle cose le cose negative le cose nefaste sono credute di più di quelle positive questo è un fatto che risale ai tempi della preistoria quando i nostri progenitori primitivi erano sempre allerta in casa arrivassero i predatori diciamo ad ucciderli fondamentalmente quindi sostanzialmente salutiamo mi noi siamo più predisposti a prendere sul serio le cose negative perché potrebbero rappresentare una minaccia un pericolo e quindi tra virgolette i nostri progenitori primitivi potevano rappresentare una come dire un qualcosa legato alla nostra sopravvivenza quindi è importante anche se oggi non siamo più ai tempi dei primitivi quella risposta combatti flight or fight response è sempre presente dentro di noi quindi siamo predisposti a credere proprio alle cose negative per un meccanismo legato alla sopravvivenza individuale e potremmo credere che invece le cose positive risultano false questo è un meccanismo di difesa che però ci può ci può fregare quindi fate attenzione alle persone che ti dicono sempre cose negative ad esempio ti dicono eh guarda che avrai problemi sul lavoro eh guarda che avrai problemi qua avrai problemi là le cose perché come dire tenderanno a dire delle cose a cui tu più facilmente crederai quindi ehm tenendo presente soprattutto se ripetono spesso le stesse cose quindi qual è ecco la prima chiave di lettura che ti do per come dire le persone che un saluto a Nadia Blancato che agiscono in questo modo a diciamo a rendergli pan per focaccia beh inizia a chi fa così a tirargli fuori le cose più negative possibili perché quello diventa un veleno che va dentro il narcisista e lo intossica e lo come dire e lo allontana non dirgli mai cose positive se pensi di avere a che fare con un manipolatore inizia a fargli le profezie più nefaste sulla sua vita sulla sua esistenza sulle cose che gli capiteranno insomma fai l'uccello del malaugurio nei confronti del narcisista questo lo manderà totalmente in crisi perché da un lato sfrutta proprio il fatto che come tutti gli esseri umani anche il narcisista tende a credere alle cose negative tende maggiormente a credere alle cose negative e poi sfrutta anche il fatto che il narcisista di fatto ha una insicurezza in se stesso in se stessa per cui se tu se tu diciamo gli racconti delle cose estremamente negative che potrebbero capitare salutiamo anche Elena hai una buona possibilità di come dire iniziare a seminare del veleno diciamo nella sua mente e attenzione però alle persone che lo fanno a te che iniziano a parlarti sempre in modo negativo in modo nefasto perché questo potrebbe agire dentro di te ad esempio nelle relazioni sentimentali qual è la cosa che fanno i narcisisti ti fanno credere oppure hanno magari una relazione con un'altra donna o un altro uomo magari ritornano con la ex si fanno una vacanza con la ex per dire e tu inizi a pensare il peggio no e questo rimuginio mentale che ti generano questo rimuginio un saluto a Miriam questo rimuginio mentale che ti procurano praticamente piano piano inizierà a corroderti quindi questa è una tattica tipica che usano i narcisisti o le persone manipolative la triangolazione ti fanno credere che come dire o che magari è vero anzi lo fanno veramente che si rimettono con la ex che si rimettono con un'altra che hanno conosciuto un'altra e questo ti manda intilti il cervello primo perché è una cosa negativa e come abbiamo detto le cose negative tendono attecchiscono maggiormente nel nostro cervello vengono come dire prese maggiormente in considerazione e in secondo luogo perché ti forniscono anche delle diciamo delle emozioni negative per cui prima che un'altra persona ti dica queste cose inizia a farlo tu inizia tu a triangolare se hai un ex inizia a uscire con l'ex se hai non hai un ex ma c'è un'altra persona che è prima conosciuta inizia a uscire con quello e inizia a dirgli no ma guarda che quello è meglio di te perché quello ha questa caratteristica quello ha questo questo c'è quell'altro tu non vali un cazzo praticamente sei una merdaccia diciamo come diceva quello a Fantozzi ovvio che la cosa fondamentale è avere proprio un bel distacco no dal tutto non essere appiccicata al risultato perché quando ti trovi in una situazione manipolativa può essere difficile capirlo però è molto importante invece rendersene conto questo è il punto fondamentale tieni presente che i segni principali della manipolazione sono ad esempio le bugie se qualcuno ti sta dicendo di non aver fatto detto qualcosa che sai che non è vero che sai che non è vero perché tu quello è un grosso campanello d'allarme quindi ad esempio un partner ti potrebbe dire che sta uscendo con il suo amico mentre invece se ne va a trombare con un'altra con la tromba mica ad esempio se ne va a fare delle altre cose va a mignotte non lo so fa qualcosa è ovvio che questo come dire è manipolare la realtà è una cosa e allora un'altra cosa che tu devi fare per seminare veleno all'interno della mente del narcisista è inizia a raccontargli palle palle su palle montagne di palle balls inizia a raccontare palle su palle al narcisista beh poi la manipolazione può anche essere una persona che ti dice delle cose e non le fa o fa delle cose e non le dice oppure la manipolazione può essere ti racconto una mezza verità no? non ti racconto tutta la verità ti racconto che sono andato a giocare a calcetto con i miei amici è vero prima sono andato a cena con i miei amici è vero ometto il fatto che tra la cena e il calcetto sono andato a farmi fare un servizietto diciamo dalla mia amante per dire no? è ovvio che questa l'omissione è anche una forma di menzogna quindi come dire se hai il sospetto o hai verificato perché ti consiglio di fare delle verifiche è abbastanza facile basta chiedere qualcosa che tu sai già la risposta e vedrai che ti mentiranno allora inizia a ricalcare questo comportamento inizia a raccontare un sacco di palle anche tu inizia perché il narcisista non capisce questo non lo tollera va in tilt inizia a inlupparsi inizia a entrare veramente in uno stato di loop che non riesce più a governare e questo è quello che diciamo che tu devi imparare a fare se vuoi praticamente ottenere dei risultati se vuoi imparare a come dire a conquistare a sedurre e a far innamorare e questo è veramente un punto molto importante veramente un qualcosa di fondamentale che dovresti assolutamente imparare perché se non lo impari come dire ne pagherai altamente le conseguenze sarai in qualche modo ne pagherai totalmente le conseguenze per cui questa è una cosa che devi assolutamente imparare a sviluppare ed è la capacità di non farti abbindolare perché come dicevamo prima una forma di manipolazione è anche chi ti dice che fa un saluto a Roxy Roxy Rosa una forma di manipolazione è anche chi ti dice una cosa e poi ne fa un'altra fondamentalmente ciò che dice ciò che fa sono due cose diverse succede spesso che il manipolatore ti promette il mondo e poi non ti dà mai niente succede che ti delude che delude quelle che sono le tue aspettative altra strategia di cui ti devi rendere conto ed è un punto importante è che il manipolatore o la manipolatrice diciamo ti farà impazzire proprio quando ribalterà la situazione ti farà sentire irragionevole dicendoti magari apprezzandosi no dicendoti che sei fortunato ad averle non lo apprezza abbastanza ecco impara a togliere stime e considerazione al manipolatore se tu gli togli stime e considerazione questo è un altro veleno che il narcisista che il manipolatore non tollera perché i narcisisti e i manipolatori si nutrono proprio di queste cose si nutrono proprio hanno proprio bisogno diciamo come come dire come non mai di avere delle possibilità delle possibilità di diciamo di rifornimento narcisistico quindi tu non dargli il rifornimento narcisistico non devi assolutamente dargli il rifornimento narcisistico e tieni presente che di solito i manipolatori sono anche dei maestri che non li fatti sentire in colpa ogni volta che tu accenni a qualcosa che magari hai fatto uno sbaglio questo ribalta la situazione e dà e dà la colpa a te solitiamo anche luigino quindi mai mai e poi mai sentirsi in colpa anzi se puoi cerca di trovare qualche gabula per somministrare a lui o a lei il senso di colpa quindi tra l'altro un'altra cosa fondamentale e quindi qua si tratta sempre di ricalcare il comportamento è il fatto che i manipolatori ti rendono responsabili anche dei suoi stati d'animo ma sono triste per colpa tua che poi è sempre un po' come dire una variante del farti sentire in colpa e quindi anche qua non ci devi cascare perché un manipolatore rende la vittima cioè il manipolato responsabile di tutti i suoi stati d'animo soprattutto degli stati d'animo negativi e di fatto un'altra cosa che devi imparare a fare è usare le sue debolezze contro di lui prima che il manipolatore utilizzerà le tue debolezze contro di te perché i manipolatori narcisisti si impegnano salutiamo un animal river si impegnano a scoprire i tuoi punti deboli le tue debolezze per poi usarle contro di te facendoti nervosire causandoti problematiche emotive e ovviamente poi dà oltre al danno la beffa perché prima il manipolatore ti causa il problema poi magari si offre anche come soluzione al problema che ti ha causato lui quindi anche questo è un qualcosa in cui non bisogna cadere nel frattempo iscriviti al nuovo canale Cammino Iniziatico con Massimo Terramasco lo postato qua sotto ti suggerisco di iscriverti perché potrebbe esserti utile parlo anche della masoneria anche di altre cose e poi ti suggerisco se vuoi fare una donazione di cliccare sul dollarino o cliccare sul tastino super grazie e se ti vuoi abbonare vai nella home page tastina abbonati vicino al tastino iscriviti quindi attenzione a chi usa le tue debolezze contro di te impara tu a usare le sue debolezze contro di lui quindi è molto importante che tu impari a osservare attentamente quali sono potremmo definire i suoi punti distonici che si verificano all'interno della famiglia d'origine come area potenzialmente distonica all'interno della famiglia acquisita dei rapporti sentimentali affettivi ma anche dei rapporti personali sessuali ma anche dell'immagine esterna del sé cioè della sua realizzazione nella vita nel lavoro nel danaro e anche l'immagine interna del sé cioè la realizzazione diciamo nella vita con se stessi cioè nella propria autostima i narcisisti tra l'altro hanno un'autostima tendente a zero e comunque se noti che qualcuno usa queste tattiche tra virgolette contro di te ribalta soprattutto subito la situazione è molto importante riconoscere da subito e imparare a proteggerti come proteggersi diciamo da questi manipolatori come difendersi da questi manipolatori per cui perché la difesa è già un mezzo attacco se impari a difenderti è già un buon risultato intanto le cattive notizie no? quelli che ti gli uccelli del malaugurio quelli che ti portano sempre cattive notizie abbiamo detto che le cattive notizie lucelle del malaugurio sono quelli che sono quelle che attecchiscono di più quindi ovviamente la cosa che devi fare è proteggerti proprio da dalle cattive notizie cioè diventando più ottimista e rimanendo centrato sul presente la consapevolezza del presente è un ottimo modo per diventare ottimista se oggi non ho mal di denti è inutile che penso al fatto che ieri avevo mal di denti che magari domani avrò nuovamente mal di denti io so che oggi in questo momento non ho mal di denti mi godo questa piacevolezza del non avere mal di denti certo che capiterà una volta nella vita che mi tornerà il mal di denti capiterà che ho avuto il mal di denti ma in questo momento non ce l'ho quindi questo momento è tutto perché il narcisista tenderà a dirti a fare il profeta di sventura a dirti che ti capiteranno cose nefaste a dirti delle cose negative a triangolarti con altri a fare di tutto questo quindi è soltanto attraverso il tuo ottimismo l'essere centrato sul presente che impedisce al narcisista di distruggerti impedisce al narcisista di rovinarti la vita la consapevolezza sul presente è veramente un ottimo un ottimo sistema perché noi abbiamo dei programmi mentali altamente negativi abbiamo dei programmi mentali altamente nefasti abbiamo dei programmi mentali che ci fanno ad esempio andare sul passato inizia invece inizia invece a inizia invece a apprezzare tutto ciò che è intorno disintossicandoti dalle visioni nefaste negative sì il narcisista è un portatore di iella che si autoavvera per il semplice fatto che noi siamo portati istintivamente naturalmente a credere per un meccanismo di sopravvivenza più alle cose positive che alle cose negative cioè detti in pratica tendiamo più a credere a uno che ti dice sei un cesso piuttosto che a uno che ti dice sei bella e uno dice ma come mai credo più facilmente a uno che mi dice che sono un cesso piuttosto a uno che mi dice che sono bella dice la donna e perché il fatto che sei un cesso diciamo è una cosa negativa e quindi viene si annovera diciamo tra tutte quelle cose collegate all'istinto di sopravvivenza nei nostri progettori primitivi tendevano a credere chi diceva guarda che sta per arrivare una tigra dei denti a sciabola ho visto le tracce di una tigra dei denti a sciabola sta per arrivare a zannarti perché come dire è molto meglio credere alla tigra dei denti a sciabola che poi non arriva piuttosto che credere che diciamo arriva a qualcosa di bello che poi non arriva perché se tu non credi al bello che poi non arriva non capita niente ma se non credi alla tigra dei denti a sciabola che poi arriva lì ci lasci le penne e quindi naturalmente siamo siamo diciamo abbastanza portati a questa cosa qua quindi metti sempre in dubbio le cose e questo è un punto fondamentale per evitare di cadere nella trappola il tuo intuito è un po' come un muscolo cerca di esercitarlo cerca di svilupparlo è molto importante sviluppare il tuo intuito e come dice Miran ti cessa perché te lo dicono ovviamente se ti dicono Miran sei cessa ti sentirai cessa soprattutto se lascerai entrare senza confutare questa affermazione dobbiamo sviluppare l'intuito l'intuito è come un muscolo ha bisogno di essere allenato per diventare più forte quindi esercitati ad ascoltare la tua voce interiore e inizia a fidarti della tua voce interiore piano piano acquisirai questa consapevolezza e poi devi essere sicuro delle tue opinioni devi iniziare a fottertene altamente del giudizio delle altre persone provenga da qualunque persona da tua madre da tua zia da tua nonna da tua sorella da qualunque persona provenga il giudizio degli altri è sterco del diavolo non devi assolutamente prendere in considerazione sono tutte cose negative che è stato sbranato un orso che è stato le tigri sbranano ma lo sappiamo che nel Trentino è stato sbranato una persona da un orso e io ho anche sentito diciamo quelli che tanto per fare una piccola parentese poi chiudo ci sono persone che dicono abbattero no l'orso che ha sbranato quello uno dice ma che c'entra l'orso è stato un suo istinto sicuramente se il tema ariana e righetti dell'orso è stato un istinto ovviamente però ho sentito degli esperti che hanno detto che adesso l'orso che ha assaggiato la carne umana e che riconosce l'odore degli umani sarà più propenso ad attaccare gli esseri umani quindi questa è soltanto una nota comunque bisogna essere aperti diciamo alle opinioni altrui ma non credere assolutamente a nessuno salutiamo anche ariana non credere assolutamente a nessuno poi un'altra cosa importante bisogna darsi sempre la giusta importanza prenditi cura della persona più importante cioè di te stessa di te stesso fai ciò che ami non credere non cedere ai condizionamenti continua a uscire con le persone che ti piacciono continua a uscire con i tuoi amici non smettere di mettere te stessa al primo posto altrimenti se non lo farai salutiamo anche Stella Marina se non lo farai cadrai nella trappola cadrai nella trappola di un manipolatore cadrai nella trappola di un narcisista e quindi come eliminare la manipolazione dalla nostra vita allontanarsi dal manipolatore mentale potrebbe risultare molto difficile però è possibile intanto come dire la cosa fondamentale è quella di ribaltargli le cose quindi fallo sentire una merda fallo sentire insicuro amplifica i suoi problemi non dargli diciamo considerazione non dargli stima e levatelo dai coglioni in più prenditi cura di te e ama te stessa e questo sarebbe il vademecum fondamentale per levarti dai coglioni il manipolatore perché altrimenti farai un viaggio infernale diciamo perché il viaggio nell'essere condizionato da un manipolatore è davvero un viaggio infernale non devi aver paura tra virgolette di lasciare una persona che ti manipola anzi quando incontri un manipolatore e quando lo lasci digli sempre thank you and goodbye arrivederci e grazie e levatelo dai coglioni una volta per tutte questo è il punto fondamentale levatelo dai coglioni una volta per tutte ovviamente ci sono anche degli individui molto predisposti non individui con personalità oscure che potrebbero anche apparire normale al primo impatto ma poi in realtà manipolano quindi bisogna capire che ad esempio la psicologia oscura è un po' lo studio di questi comportamenti manipolativi o di controllo mentale utilizzati per manipolare le altre persone quindi bisogna tenere presente che ci sono persone che cercheranno di farti lavaggio del cervello ad esempio attraverso la ripetizione continueranno a ripeterti sempre la stessa cosa anche qua dobbiamo tenere presente che se sei isolato sei panato fa anche rima se sei isolata sei panata mai lasciarsi isolare e fondamentalmente tenere presente che la manipolazione è efficace soltanto se tu accetti il messaggio che ti viene dato le persone manipolative ovviamente sono esperte nell'inganno è difficile scoprire le loro intenzioni ma interiormente le capisci ogni volta che ti senti in colpa inizia ogni volta che incontri uno che ti mente a raccontargli tu delle palle inizia a raccontare un sacco di palle mai dire la verità a una persona che le tieni manipolativa raccontali le palle più enormi del mondo evita di fare di sentirti in colpa e se puoi cerca di come dire collegare loro a qualche evento in cui li colpevolizzi tieni presente che oltre a dirti palle ti diranno anche mezze verità insomma scaricheranno le colpe sugli altri si comporteranno da vittime se cerca di farti ingelosire fallo ingelosire tu se un uomo viene lasciato con un vaffanculo e continua a scrivere amore tesoro è perché di te non gliene frega un cazzo e prova attraverso il love bombing ad agire ma il problema non è di quello che scrive perché quello che scrive è come il diciamo quello che scrive come lo scorpione la cosa migliore sarebbe o bloccare o cestinare il numero cancellare il numero e non non prendere più in considerazione e rivolgersi ad altre situazioni che poi è sempre la cosa migliore soprattutto utilizza quella tecnica che utilizzano i manipolatori che gli ribalti la situazione che è il trattamento del silenzio cioè levatelo dai coglioni fondamentalmente mai cedere ai ricatti emotivi mai crearsi delle illusioni tante persone utilizzano i ricatti emotivi no oppure ti creano delle illusioni per raggiungere i loro obiettivi ti fanno credere un saluto a Roxy ti fanno credere una cosa che poi in realtà questa cosa non c'è ecco se tu riesci a ribaltare la situazione utilizzare tutte queste strategie è molto più semplice per nevartela dai coglioni fondamentalmente e per diciamo non essere più soggetto come dire non essere più soggetto imparare a riconoscere rapidamente qualunque persona che ti possa manipolare qualunque persona che possa condizionare la tua vita prova a fare questo e vedrai che metterai dentro il manipolatore dentro la mente del narcisista un veleno che piano piano lo farà implodere metterai dentro la testa del narcisista un veleno che piano piano lo renderà diciamo molto più debole ed è quello che devi imparare a fare bene bene